Chiuse le indagini nei confronti di 49 persone a vario titolo coinvolti nell'inchiesta che prese le mosse dall'operazione Vello d'Oro Martingala che ha messo sotto la lente di ingrandimento gli affari di alcuni imprenditori legati all'Andrangheta e attivi non solo in Calabria ma anche in altre zone d'Italia. Tra le 49 persone raggiunte dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche gli elementi di vertice dell'organizzazione come Antonio Scimone considerato il vero regista delle movimentazioni finanziarie dissimulate dietro apparenti attività commerciali nonché Antonio Barbaro della Cosca Barbaro detto ai Nigri, Bruno Nirta, Cosca Nirta Scalzone ed il figlio di quest'ultimo Giuseppe Nirta. L'organizzazione poteva contare, secondo gli inquirenti, su un gruppo di società di comodo comunemente definite cartiere che venivano sistematicamente coinvolte in operazioni commerciali inesistenti caratterizzate dalla formale regolarità attestata da documenti fiscali e operazioni di pagamento rivelatesi però all'esito delle indagini anch'esse fittizie. Le società avevano sede in vari paesi dell'Unione Europea e dopo più di un paio di anni di attività venivano sistematicamente trasferite tutte nel Regno Unito e cessate. Le fittizie operazioni hanno consentito al sodalizio di mascherare innumerevoli trasferimento di denaro da e verso l'estero funzionali alla realizzazione di molteplici condotte illeciti quali, in primis, il riciclaggio e il reimpiego dei relativi proventi. Gran parte dei clienti erano imprenditori espressione direttamente o indirettamente delle cosche di indrangheta operanti sul territorio dei tre mandamenti. Le indagini della DIA hanno consentito inoltre di accertare che attraverso questo collaudato meccanismo fondato sulle operazioni fittizie, Scimone e i suoi riuscivano a far trasferire dai conti delle società cartiere flussi finanziari per diverse centinaia di migliaia di euro al mese. Le indagini inoltre hanno evidenziato la caratura criminale di Antonio Scimone, soggetto che spicca come riciclatore professionista al servizio non della singola cosca ma della criminalità organizzata della provincia regina. Inoltre sarebbe stato dimostrato come le risorse di illecita provenienza sarebbero state poi reimpiegate nell'usura e nell'esercizio abusivo del credito, soprattutto ai danni di imprenditori locali in difficoltà.